Ciao a tutti ragazzi, qua ricco che vi parla e c'è con noi la cavia Oggi siamo qui per mostrarvi una truffa Una oggi, una, una, le prossime più avanti Questa qua è una truffa che mi ha fatto scoprire un iscritto, io non tuffo, per l'amor di dio Però non si sa mai di truffare truffatori, cose così Allora, cosa consiste? Lui va da quella parte, io entro da questa Ovviamente, che ne so, io qua avanzo e che ne so, troppa qualcosa Tipo... Eh, leader, leader Sembra sei il truffatore No, 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 per me si e basta, ti do Questo è un esempio, regala Allora, vai, troppa una minchiata Una minchiata Vabbè, ok, io che cazzo ne so, io troppo... questo No, troppo qui, ok Ok, ora andiamo avanti, andiamo dietro e usciamo da qua Andiamo avanti, indietro, adesso assenso Ecco Oh no È la truffa, è questa, ok, sono un coglione Ma sono nel mare Ma Questa qua è la truffa, adesso vi faccio vedere cosa consiste Non era nel mare? Ah, si truffa da solo Si truffa da solo Vado a prendere l'arma Immagino Si, la vado a prendere, si Vabbè Io voglio vedere che... Io sono curioso della tua reazione Fede di guittana C'è un'attività che è largo Vabbè Bello Comunque, ragazzi, cosa consiste? Che... Qui, vedete Non si vedono Perché sono mascherata da queste congelo Ecco, sono un coglione Ci sono... Ci sono delle balzerine Che in poche parole quando dico Andiamo a prenderci le armi a Vicenza A Vicenza Capite, no? A Vicenza Dobbiamo passare per questo tunnel E andare di là Ecco, vedete? Tutto buggato Una truffa molto bella Ringrazio l'iscritto che me l'ha detta È poco conosciuta Ed è, diciamo Funziona al 100% Quindi, raga Se dovete truffare qualcuno Che vi ha truffato qualcosa Questa qua è la soluzione Ovviamente ho altre truffe Ve le faccio vedere nei prossimi video Comunque, niente Lasciate un mi piace Se volete iscrivetevi Ringraziamo L'indiano L'indiano E niente Questo qua era il video della truffa Ci vediamo nella prossima live O prossimo video Bella, raga Bella